Mi chiamo Franco, io da 30 anni che faccio questo lavoro qua, sono 5 anni che l'ho fatto in un laboratorio di artigiani, cucire le scarpe in particolare a mano e tutto, poi gli altri 25 anni l'ho fatto in un centro commerciale, questa attività io l'ho iniziata inizialmente come calzolare, poi mano a mano che sono passati gli anni abbiamo aggiunto le chiavi e per quanto riguarda le chiavi è una procedura di fare le chiavi di tecnologia, tutte le chiavi computerizzate, fatte con le macchine di alta precisione, per quanto riguarda la parte delle scarpe è più roba di riparazione della scarpa, una scarpa che si rompe sulla tomaia, oppure la parte, non è più la riparazione della scarpa classica che si fanno i tacchi e le suole. Una volta i tipi di lavori che si facevano per quanto riguarda la calzoleria si utilizzavano a mettere o le mezze suole, che sarebbero così, oppure le mezze suole in cuoio. Ora la maggior parte dei lavori che si fanno si aprono tutte le scarpe tutte in gomma e si cambiano completamente dei fondi, che sarebbero così, in base al tipo di scarpo in questo modo qua, oppure una scarpa da montagna, che vengono tutte incollate. Un aspetto importante per quanto riguarda il calzolare di adesso è personalizzare proprio le scarpe. Grazie per la visione! Grazie per la visione!